Auspico una nuova cultura d'impresa, un'impresa morale, dove il profitto va raggiunto senza recare danni a nessuno e con grande umanità. E' questo il credo di Brunello Cucinelli, protagonista dell'incontro del ciclo Oltre le due culture, che si è tenuto al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università a Van Vitelli, sul tema dignità economica e morale dell'essere umano. Continua così il ciclo di incontri con cui l'autoneo si propone a docenti, studenti, ma anche al territorio, aprendosi a dialogare con esso attraverso autorevoli esponenti della cultura italiana e internazionale. L'incontro con Brunello Cucinelli è stata l'occasione per riflettere, insieme a un protagonista indiscusso dello scenario mondale della moda, sul significato di un modello d'impresa che fa scuola in tutto il mondo. Sono sempre affascinato dai giovani, ho sempre pensato che in qualche maniera l'università, lo studio, la cultura sia il seme della civiltà. E vorrei dire due cose carine a loro, vorrei dir loro che noi padri abbiamo fatto due grandi errori con i nostri figli. Il primo, importantissimo, quello di aver detto se non studi andrai a lavorare, quindi al lavoro abbiamo dato tutte le colpe per non aver studiato, quindi il lavoro ha perso la sua dignità morale ed economica e questo noi dobbiamo cambiarlo. E poi forse il più grande, abbiamo inculcato loro l'obbligo di aver paura. Quindi, o voi giovani, da domattina sostituite la terminologia paura con speranza, perché una vita senza speranza forse non ha nessuna logica di essere vissuta.